Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi video tag su Instagram. Mi ha taggato la Vali310, che saluto e ringrazio, ciao cara, il tuo video è molto carino. La Vali310 è una delle mie youtuber preferite e quindi rispondo con piacere al suo video tag. Oltretutto sono anch'io come lei una grande appassionata di Instagram per cui iniziamo subito. Prima domanda, da quanto tempo sei iscritta ad Instagram? Sono iscritta dal 2 marzo 2013, adesso se riesco vado a recuperare la prima foto. Dovete scusarmi ma sono molto imbranata col pc portatile. Comunque sia la prima foto è questa. Vedete 2 marzo 2013 e quindi sono iscritta da quella data. Seconda domanda, qual è stata la prima foto che hai pubblicato? È questa appunto, della Naked 2, che se riesco vi inquadro, che è una delle mie palette preferite e quindi ho deciso di inaugurare Instagram con questa foto. Terza domanda, vai spesso su Instagram con che frequenza? Sì, spessissimo, talmente tanto da non sapervi dire la frequenza e generalmente accedo dall'iPhone per cui con l'applicazione ed è per quello che sono quindi così imbranata ad accedere dal computer. Quarta domanda, qual è la foto preferita su Instagram? Allora, è la foto che utilizzo anche come profilo del mio canale YouTube e vi vado a cercare. dovete avere un attimo di pazienza con me perché... ed è questa, questa foto qua, del 5 aprile 2013 e chi mi conosce sa che è anche la foto del profilo YouTube. Quinta domanda, qual è la foto che ha avuto più successo su Instagram? Allora, è una foto di uno smalto, sono andata a vedere grosso modo tutte le foto e quella che ho ottenuto più mi piace è questa. Questa qua. Del 14 maggio 2013, come vedete ci sono 39 mi piace che è il numero massimo di mi piace mai ottenuti. Da me. Sesta domanda, quanti follower sai e quante persone segui? Ecco. Allora, mi seguono 279 persone e io ne seguo 23. E ho messo 189 post. Settima domanda, chi è l'ultima persona che ha messo un mi piace sulla tua foto? Allora, andiamo a cercare l'ultima foto che è questa qua dalla mia postazione make-up appena allestita e dalla quale sto filmando. Questa foto qui. L'ultima persona è Kiss Givellina 72. E tra l'altro è stata taggata anche lei per questo video e aspetto il suo video. Ciao cara. Poi, ottava domanda, cito una persona famosa oppure un marchio o un'azienda che segui su Instagram? Allora, marchi e aziende non ne seguo. Di famose seguo sempre delle youtubers che sono, ne citerò due se possibile, e sono Makeup Delight Giuliana e Kiss & Makeup 01. Nonna domanda, mostra da una a tre foto che preferisci. Allora, ci sono queste. Allora, una è questa qua dalla postazione make-up che già ti ha aperta, ve la mostro perché sono molto contenta di avere creato questa postazione e quindi è una delle foto che preferisco. Poi mi piacciono molto quelle del caffè ad esempio, questa. Del caffè con la panna che secondo me è una delle cose più buone che ci siano al mondo. Mi piace questo del viaggio dove stavo andando a ragione. Qua siamo nei pressi di Voghera dove c'è il 45esimo parallelo. Poi mi piace questa. Mi piace molto perché ho lo smaggio florescente. E poi mi piace tanto, ve ne mostro ancora una. Mi piacciono quelle dei miei gatti perché è questa. Allora, il grigio in alto, il bianco e grigio in alto è lillo. Quello rosso è ciccio. Questi sono i miei due gattini e queste sono tra le foto che preferisco. Ultima domanda. Qual è l'ultima foto che hai postato nel tuo profilo? Allora, se si intende l'immagine del profilo, non l'ho mai cambiata, quindi è sempre la stessa del mio avatar creato su internet. Io questa domanda non l'ho capita molto perché, appunto, se si intende l'immagine del profilo è l'avatar creato su internet. Ed è questo. Questo qui. Se si intende l'ultima foto pubblicata è quella della postazione make-up. Vedi allora, l'ultima foto profilo è questa. L'ultima foto postata è questa qui e vi mostro subito. Per cui io risposto in amme due modi. Per cui ragazzi, questa era l'ultima domanda del tag. Io vi ringrazio per avermi seguito. Ringrazio ancora la Vali310 per avermi taggato. Andate a vedere anche il suo video perché è veramente molto carino. Taggo AngeloDemoniaComundici, che seguo sempre su Instagram e lei mi segue, MaddamaButterfly83 e AmyChic, che appunto sono tre ragazzi di YouTube che io seguo anche su Instagram. Per cui ragazzi, se vi fa piacere, fate anche voi questo video, vi farà molto piacere avermi come risposta. Lasciami comunque il tag aperto per tutte le ragazze iscritte in nome al mio canale, che avessero voglia di farlo. Siamo noi. Ci vediamo presto al prossimo video. Un bacione.